Stai pensando di fare un viaggio negli States e vorresti portare il tuo drone? Niente paura, in questo video ti spererò in come in soli 30 minuti potrai ottenere l'attestato di pilota a droni in modo completamente gratuito sostenendo un semplice esame online e volare quindi in completa tranquillità nel territorio americano. Il sito di riferimento è trust.pilotinstitute.com Se avete problemi con la lingua inglese, niente paura, nei browser potete trovare l'impostazione traduci. Fatto il vostro corso, vi si proporanno delle domande, una quiz in cui è possibile dare al massimo tre risposte di cui solo una è quella esatta. In caso di risposta sbagliata, niente paura perché il sito ti indicherà esattamente le ragioni del tuo errore e quindi potrai ripetere il test. A test ultimato riceverai immediatamente il tuo attestato. Ricordati di stampare una copia o conservarlo in formato elettronico per poterlo presentare in caso di richiesta da parte degli enti competenti. Lascia un like se il video ti è stato utile e seguimi per altri consigli.